Ci troviamo nella nuova piazza delle cure a Firenze inaugurata il 30 novembre, nuovo assetto, nuovo mercato e nuovo asfalto che a quanto pare però ha deluso i cittadini perché dopo poco si è rovinato rivelando tutte le sue debolezze in particolare la granatura. Abbiamo sentito i cittadini che cosa ne pensano in particolare dei numerosi rattoppi che già sono stati fatti dal comune. Ci hanno lavorato tanto con tanto sacrificio, questo l'abbiamo visto, anche nostro sì, però io spero, più che altro ho visto che ci sono, siccome io vengo spesso con lo scooter, mi muovo tantissimo con lo scooter, ci sono tutti i sassolini in terra che non è che stiano al massimo della vita. Dal momento in cui hanno chiuso i lavori e avevano asfaltato la rotonda è rimasto completamente pieno di questo brecciolino e io pensavo che fosse perché magari chiudendo in fretta e furia non avessero avuto modo di pulire bene, allora magari una passatina, se riuscissero a dare, hanno fatto tanto, fatto 30, facciamo 31. Dall'altra parte lì ci sono tutte già le pezzature. Cosa ne pensa di questa situazione buche in città in generale? Ma è la solita storia di sempre perché praticamente rifanno le strade e dopo pochi mesi sono di nuovo molto probabilmente i materiali che lo usano, non lo so, ora io non sono un tecnico oppure le ditte, non lo so, io questo, i risultati sono quelli insomma. Pare che abbiano sbagliato proprio la grana dell'asfalto. Sì, per me penso di sì, anche se vedo qui tutto il pavimento fa pena, insomma, a me non piace. L'hanno inaugurata in fretta e furia forse? Sì, sì, non c'è neanche posto macchina, la gente non si ferma neanche, lo stadio era molto meglio. La meglio è quella, anche da non bilano. Noi sai, si arriva, si è entrata qui, dopo il giro non si va, si è riuscita. Come appunto ci passano tanti camion sarà anche quello. Allora bisognava arrivare, speriamo di no però. Oltre all'asfalto i cittadini hanno mostrato il loro disappunto, in particolare sulle aiole che non sarebbero state rifinite bene, vediamo perché. Perché sono pericolosi, quelle buche intorno agli alberi, o decidono di fare delle griglie. Più che buche sono quelle, come dice lei, cioè tutte quelle cose lì dove uno, no ci si inciampa, bisogna camminarci ma sono piene di fango, sporche, da morire e poi si rischia di cadere dentro.